Venerdì 2 luglio, buongiorno, ben ritrovati, occhio ai giornali, la rassegna stampa di Fano TV, la rassegna che come tutte le mattine vi dà la sveglia del mattino con l'informazione locale, con i giornali, il Carlino Corriere Adriatico, la selezione fatta per voi, esclusivamente per i nostri telespettatori, delle notizie che ci aiutano a capire un po' come sta andando il mondo, il mondo intorno a noi, ma davvero perché l'informazione locale, il pregio dell'informazione locale è di darvi informazioni su quello che accade attorno a noi in tutti i sensi e lo vedremo tra poco perché abbiamo una notizia buona e una notizia cattiva, andiamo adesso però a vedere il santo e poi il tempo. I santi, i santi sono processo e martinano, martignano scusate, il sole è sorto alle 5.29, tramonterà alle 20.56, adesso andiamo a vedere il meteo. Oggi andiamo a vedere la protezione civile delle Marche, per la giornata di oggi ci sono come vedete due situazioni, quella sulla costa che prevede cielo sereno e all'interno invece montagna dal pomeriggio, isolati rovescio temporali, soprattutto al centro e nord della regione Marche, le temperature sono sempre comunque stazionarie o in lieve diminuzione dei valori massimi. Per la giornata di domani invece sabato ancora cielo sereno poco nuvoloso, domenica lo stesso poi arriverà un po' di cattivo tempo, ma devo dire che ieri la nostra bagnina di turno, Laura con la quale ci colleghiamo adesso da Senigallia aveva ragione, Laura avevi ragione, puoi fare anche la meteorologa, perché ieri non ha fatto una goccia d'acqua. Infatti, ma spesso e volentieri sulle previsioni danno che in certi orari verrà a piovere, invece poi non succede nulla. L'esperienza sul campo è quella che conta più di tutto, poi modelli matematici, va bene tutto, quello che ti pare, però insomma mi pare che la vostra esperienza sul campo, ed è per questo che ci colleghiamo tutte le mattine, insomma. Per oggi che cosa prevede il bollettino meteo marino? Allora, stamattina la temperatura rispetto alle altre mattine è un pochino più bassa, le altre mattine a quest'ora già si sentiva bene il caldo che sarebbe venuto fuori durante la giornata, però secondo me neanche oggi verrà a piovere. Ecco, quindi diciamo che questo fine settimana insomma sarà un buon fine settimana, speriamo di lavoro per tutti e quindi di svago anche. Turisti ci sono, sì, si vedono, cominciano a vedersi. Turisti sì, sono arrivati già da ieri qualcuno, qualcuno arriverà oggi e comunque il grosso del lavoro partirà dal 10-15 luglio. Ecco, non so se lo sai, ma un po' più giù rispetto a dove sei tu, molti chilometri più giù nella spiaggia di San Benedetto in uno chalet. Giovedì sera c'è stata una festa, uno di questi partecipanti, un ragazzino, era positivo e ha fatto un disastro. Praticamente adesso c'è un cluster, quindi ci sono molte persone, molte persone positive al virus e ci sta mettendo un po' a rischio, perché sta mettendo a rischio la zona bianca, perché dobbiamo stare sotto i 50, contagio al giorno, invece siamo arrivati a 46. Ma il problema secondo me è che ancora la gente non ha capito ben bene come funziona il problema di contagiarsi dagli altri. Io ho delle persone che arrivano e mi dicono non mi far mettere la mascherina perché sono vaccinato. Io non la metto. Cioè il fatto di essere vaccinati non preclude il fatto che uno possa comunque prendere il virus e attaccarlo da altre persone. Certo, quindi il distanziamento è la cosa più importante. Sì, fondamentale. E la mascherina. E la prevenzione, il distanziamento. Esatto, esatto. Ok, comunque la domanda era ci sono delle feste anche in programma in spiaggia, la da voi? No. No, non ci sono. Non è il caso di festeggiare. No, quest'anno abbiamo deciso di non far nulla. No, no, no. Finché si tornerà a una situazione normale noi non faremo nulla di tutto ciò. Bene, ci sono, poi chiudiamo il collegamento, ci sono dei colleghi, delle colleghe se sola? Eh, c'era fino a qualche minuto fa Tiziana, mia cognanta, ma l'hanno chiamata su e dovuta salire che sono arrivate delle persone. Ci vedremo domani mattina. Sì, comunque diciamo che siamo io e lei principalmente che portiamo avanti il tutto, ecco. Allora, ci vediamo domani mattina per l'ultimo collegamento. Va bene. Grazie, buon lavoro, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Allora, più contagi non significa più malati, questo è un virgolettato sul Corriere Adriatico tutte le edizioni, non solo quella di Pesaro. Il virologo Menzo è lui che lo dice, il cluster di una festa in spiaggia, 20 giovani positivi e un centinaio da tracciare. Ma Acquaroli raccomanda, dobbiamo restare sotto i 50 casi giornalieri per evitare la zona gialla. Vedete, si pensava, no? Ormai siamo in estate, zona gialla, zona rossa, per carità, e invece siamo lì sempre con il fiato sul collo. Movida, la task force del fine settimana, controlli in zona mare. Poi la storia di Acciarri, Acciarri è questa signora qua, Monica Acciarri, che adesso diventerà probabilmente la nuova consigliera di parità in quota Lega. Ancora dalla prima del Corriere Adriatico, a Pesaro, Rondò, per gli alberi tagliati il Comune ne pianterà il doppio. A Fano, ex ferrovia, c'è già il progetto per eliminare il ripristino, dunque, della ferrovia, ex ferrovia Fanurbino, è fattibile. Poi so che cosa è il body shaming. Ora ne rido, ma ho sofferto. Allora, che cos'è il body shaming? E' quando qualcuno ti deride e ti sbeffeggia per la tua forma fisica, per un difetto fisico. Ecco, questo noi in Italia lo chiamiamo body shaming. E in Consiglio Comunale a Pesaro lo ha approvato all'unimità, un ordine del giorno trasversale, e a raccontare la propria esperienza, quindi di derisione, di prese in giro, a livello personale, con parole anche toccanti. E' stato proprio il Presidente del Consiglio di Pesaro, Marco Perugini. Poi la cronaca, organizzavano le staffette per la droga, due arresti nell'entroterra. Allora, avevamo detto la buona notizia e la cattiva notizia. La cattiva notizia ve l'abbiamo già data. Le Marche sono a rischio, sperando che il dato di ieri, che ha visto un'impennata dei contagi nel Piceno, sia un caso sporadico, ma comunque bisogna tenere davvero alta l'attenzione. Adesso si stanno facendo tutti i tracciamenti, ci sono più di 100 persone che devono ancora essere tamponate. A quella festa nello chalet al mare di San Benedetto c'erano 180 ragazzi, ragazzini molto giovani. Si sta cercando di rintracciarli tutti per appunto fargli il tampone. Intanto però, ecco, ieri eravamo a 46 contagiati positivi, dobbiamo stare sotto i 50 giornalieri, perché altrimenti scatta in automatico e lì non c'è santo che tenga il passaggio in zona gialla. La buona notizia invece è questa. A Pesaro, Marche Nord, è stata chiusa la terapia intensiva, quindi non ci sono pazienti. Andiamo a vedere dunque la pagina, prima pagina del carino di oggi. Zero pazienti dopo nove mesi, si svuota la terapia intensiva, il primario dice però vaccinatevi. Poi c'è l'emergenza idrica, è allarme rosso. Oggi si riunisce il Comitato Provinciale di Protezione Civile, la situazione evoca la grande sete del 2017. Poi il verdetto concetti arriva un'altra condanna per falso in bilancio, un anno di carcere. E questa è la prima del carino. Ma andiamo adesso, qui ho selezionato per voi la pagina del Corriere Adriatico, dove si parla di questa festa in spiaggia che fa schizzare i contagi, lo spettro della zona gialla, due nuovi cluster nelle Marche, a San Benedetto 20 ragazzi positivi, il governatore Acquaroli che dice dobbiamo restare sotto i 50 casi al giorno, per conservare appunto la zona gialla. Guardate questo riquadro invece, ecco il report di ieri. C'è anche un bambino che ha tra i 0 e i 4 anni, un bambino, vedete, tra i contagi qua nella colonna di sinistra del vostro teleschermo. Poi il numero maggiore lo registra la fascia di età tra i 15 e i 19 anni, ovvero 16 persone positive. Mentre tra i 20 e i 24 anni sono 10. Poi 5 tra i 25 e i 29 anni e poi vedete sono pochissimi, invece 1 tra i 50 e i 54 e 2 soltanto tra i 55 e i 59. Per un totale, ed è questo che fa preoccupare tutti quanti, per un totale di 46 contagi. Poi nella provincia, nelle varie province, come vedete, ricancelliamo tutto, ecco, nelle varie province è interessante il dato, ovviamente San Benedetto del Tronto con 16 contagi, abbiamo detto questi giovanissimi. Poi c'è Montefiore dell'Aso che leggevo nelle cronache di là, insomma, stamattina, che anche in questo caso c'è un problemino che riguarda un paio di famiglie, un paio di famiglie che sono in vacanza da queste parti e che hanno scoperto di essere positive. Quindi adesso immaginate, insomma, queste famiglie che sono qua in vacanza e che devono essere portate in un altro posto, insomma, è un po' un problema, ma d'altra parte se si decide di andare in vacanza è anche un rischio calcolato che bisogna mettere in conto, ok? Mentre nella provincia di Pesurbino soltanto un positivo a Cagli e un positivo nel comune di Vallefoglia. Cambiamo pagina, giriamo, andiamo a vedere, qui invece siamo sul Corriere Adriatico di Ascoli Piceno. Il titolo è Chalet, feste Covid, punti dice, ma i gestori devono controllare. Il sindaco annuncia subito il giro di vite sugli stabilimenti balneari. Finora una ventina di ragazzi contagiati, rintracciati un centinaio. Bene, questa è la pagina di Ascoli, però vale per tutti, vale per tutta la costa marchigiana. Perché? Perché appunto si chiede ancora una volta a tutti, in particolare ai ragazzi, ma anche ai gestori, soprattutto i gestori dei locali pubblici, che però dicono noi possiamo fare poco, perché quando abbiamo 200 persone che facciamo, di continuare a mantenere alta la guardia anche in questo periodo di apparente diminuzione del rischio. Il comune intensificherà i controlli rimasti mirati al rispetto delle regole. Poi cinque turisti, come vi dicevo, positivi a Montefiore dell'Aso, ma insomma niente panico. Il Carlino di Ascoli, invece, boom di contagio alla festa a zona bianca a rischio, è salito a 27 il numero di positivi riconducibili, sono 180 circa le persone a quella festa. Ma cosa dice il nostro, tra virgolette, nostro virologo, ovvero Menzo? Dice possibile una ripresa del virus che però non significa più ricoveri necessariamente. Abbiamo scudi per difenderci, è lo scudo chiaramente a cui fa riferimento Menzo, il virologo è il vaccino. Ma di tutte le domande e risposte che fanno parte di questo articolo scritto da Martina Marinangeli, vi segnalo e mi soffermerei un attimo su questa domanda e questa risposta. La domanda è la carica virale rilevata nei nuovi positivi, quindi questi giovani, è molto alta, infatti c'è questo dato che è molto alta. È colpa della mutazione indiana? È più aggressiva rispetto a quelle che l'hanno preceduta? La risposta del virologo è una carica virale alta significa solo che le infezioni sono recenti. Quando è bassa invece vuol dire che l'infezione è collocabile in un lasso di tempo che va da qualche giorno a qualche settimana. A marzo abbiamo registrato cariche virali molto alte che poi non abbiamo più visto. Quando non le rileviamo significa che vediamo poche nuove infezioni. È chiaro che se invece ne registriamo tante contemporaneamente vuol dire che è successo qualcosa di recente e dunque va monitorato. E credo che il caso di Ascoli appunto sia questo tanto e contemporaneamente. Sono tante e contemporaneamente perché questo è successo. Terapia intensiva invece, torniamo a Pesaro, dimessa l'ultima paziente, era una donna appunto e nessuno dei ricoverati era vaccinato. Il reparto si è svuotato dopo ben nove mesi e 404 persone curate. Picchi di 42 ricoveri a marzo, il più giovane aveva 31 anni, mentre il più anziano 85, ma dice ce l'ha fatta anche lui ed è uscito con le proprie gambe in sostanza. Il primario Michele Tempesta dice la storia più emozionante, per me è stata quella di un 42enne che è arrivato in condizioni disperate, però alla fine ce l'ha fatta. La Movida Pesarese. Movida Pesarese, in questo caso il Corriere Adriatico si occupa della Movida a Pesaro, ma io spero che a questo punto, così come abbiamo sentito poco fa da Senigallia, ma mi auguro anche su Fano ci sia, e quindi le rispettive prefetture, abbiano testa bene qual è il quadro della situazione, e quindi come agire per cercare di scongiurare questi nuovi contagi. Perché rispetto all'anno scorso, vedete come la variante indiana, la variante delta, mentre l'anno scorso il problema dei contagi era ormai sparito dai radar, oggi invece siamo qui a parlare di possibilità di un rialzo di questi numeri. Ora, sarà un fine settimana di task force, di controlli per contrastare gli eccessi, dalla polizia locale, quindi siamo a Pesaro, lo ricordo, fino alla Guardia di Finanza, tutte le forze dell'ordine sono mobilitate, servizi di pattuglia predisposti dove si concentrano i gruppi di giovani. Quindi questo è quello che in queste ore si sta cercando di tenere sotto controllo. Tenendo conto che c'è un banco di prova, che potrebbe essere già questa sera, con la partita Belgio-Italia, valevole per l'accesso alle semifinali degli europei di calcio, nessun maxischermo, però ogni locale all'aperto, e non solo all'aperto, ovviamente si è organizzato con un televisore, quindi trasmetterà a beneficio dei clienti o anche dei passanti questa partita. Anche se credo che la cosa più saggia in questo caso sarebbe quella di stare tranquillamente a casa, guardarsela a casa, ormai tutti abbiamo un televisore, non è come 50 anni fa che dovevamo andare al bar o dalle famiglie ricche per vedere la televisione, poi c'abbiamo i telefonini, quindi andare ad assembrarsi per il gusto di... Era bello una volta, ma adesso è un po' un problema. Quindi restano 50, qui parliamo invece di vaccini, restano 54 mila prime dosi, poi saranno solo richiami, così l'immunità però è lontana. Il ciclo di prenotazioni si chiude tra pochi giorni, quindi dopo praticamente una volta chiuso questo ciclo di fatto i sanitari restano con la cosiddetta siringa in mano in attesa di tutti quelli che hanno deciso di non farlo. E i marchigiani che hanno deciso di non farlo non sono pochi. Lontano sicuramente è l'obiettivo del milione di vaccinati, però questo è il dato, siamo in estate, lo abbiamo detto più volte, molti vogliono aspettare, vogliono vedere cosa succederà a settembre, ad ottobre e magari in corsa prenotarsi per fare il vaccino. L'estate la vorrebbero passare tranquillamente anche perché ci sono le vacanze di mezzo, andare in vacanza con un vaccino addosso non si sa mai come può andare a finire. Insomma, a luglio, scrive ancora il Corriere Adriatico, 47 mila sieri della Pfizer a settimana, la metà di quelli consegnati nel mese di giugno. E anche in questo caso il riquadro con il grafico, con lo schema della somministrazione nelle marche dei vaccini, ci può dare un'idea anche a colpo d'occhio di come stanno andando appunto le cose. Chiaramente siamo lontani ancora da quel milione che sperava l'assessore Saltamartini. La pagina di Fano invece del Corriere del resto del Carlino, di tutt'altro genere, forse è un argomento sicuramente un po' più spensierato, forse, perché poi per i saldi ci vogliono comunque i soldi. Si riparte boccata d'ossigeno per i negozi. La Presidente del Commercio di Fano, Barbara Marcolini, dice che la gente ha voglia di girare e il lockdown ci ha fatto riscoprire anche il valore del contatto umano. Dunque, per celebrare l'avvio dei saldi previsti in tutte le marche, le attività del centro cittadino rimarranno aperte dalle 21 alle 23.30. Per favorire l'accesso in centro storico, l'amministrazione di Fano ha deciso di tenere aperta la caserma Paolini fino a mezzanotte con il parcheggio gratuito. Quindi diciamo che partono da domani in tutte le marche i saldi. Qualcuno, come al solito, è già partito, ma va bene, lo stesso. Insomma, alla fine l'importante è trovare e risparmiare. C'è un problema, e questo ve lo diciamo ormai qui in rassegna stampa da parecchie settimane, quasi da diversi mesi. Adesso l'emergenza idrica è conclamata. Queste sono le parole di Tiviroli, amministratore delegato di Marche Multiservizi, che dice, anzi annuncia, dobbiamo fare delle scelte coraggiose. Questa mattina c'è una riunione alla protezione civile per affrontare quella che viene definita chiamata la Grande Sete. L'amministratore dice, da settimane anzi, stiamo, riforniamo l'entroterra con addirittura le autobotti, i problemi maggiori sono lì, e rilancia il grande invaso alle sorgenti del Candigliano. Dunque, è un'estate che si preannuncia, salvo cambiamenti, nelle prossime settimane, con l'arrivo della pioggia, ma, insomma, si preannuncia un'estate davvero problematica da questo punto di vista, sul fronte della siccità. C'è questa notizia invece che arriva da San Costanzo con una foto che sicuramente farà indignare qualcuno, ma per altri sarà una foto come tante altre. Perché? È la foto di un cacciatore che posa con un cinghiale di 170 kg appena abbattuto. È un cinghiale formato gigante, quello catturato, ucciso durante un'uscita di caccia di selezione contro gli ungulati da questo giovane San Costanzese che di professione fa il macellaio in una bottega a Mondolfo, e la passione invece è sempre comunque legata più o meno lì, alla caccia, quindi è stata tramandata dal padre, eccetera, eccetera. E la particolarità è che questo cinghiale è così, è molto grande, insomma, a 170 kg. Invece ad Apecchio fedeli in lutto per la morte di Don Pietro. Mercoledì nella residenza San Francesco di Sales a Città di Castello, dove da qualche mese si era ritirato, è morto ad 83 anni Don Pietro Forlucci era nato a Scalocchio, un crocevia tra Città di Castello, Apecchio e Mercatello sul Metauro nel 1938. I funerali oggi alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Badiali. Mentre da Urbino, a proposito di cinghiali, sui cinghiali agiamo con scienza e coscienza. Sono le parole del sindaco Maurizio Gambini, che ha risposto in Consiglio Comunale alle critiche per l'uso dei prodotti necessari all'allontanamento degli ungulati, quelli che mandano cattivo odore che a loro ai cinghiali insomma dà fastidio quindi li tiene lontani. Ho parlato col Prefetto, autorità sanitarie e governative sanno cosa si adopera, usate sostanze non nocive, quindi che non danno problemi alla salute diciamo delle persone. Andiamo a Senigalli invece, Corriere Adriatico, Ponte Angeli dell'8 dicembre 2018. Questo è il nome del ponte, di questo nuovo ponte, la targa in marmo, la vedete qui, indica proprio questa purtroppo tragica ricorrenza. Il 2 giugno dunque, il ponte che inizialmente si pensava di chiamare 2 giugno, cede il passo alla memoria delle vittime di Corrinaldo, oggi l'inaugurazione della struttura, quindi verrà inaugurata in mattinata, gli operai insomma hanno sistemato un po' tutto, tutto oggi alle 11 è prevista una cerimonia ristretta a poche persone per evitare assembramenti. Lo sport, per chiudere la nostra segna stampa, ma quando parliamo di sport, parliamo di sport ovviamente non giocato perché in questo momento l'attenzione, la lente di ingrandimento come si dice in questi casi è tutta per l'Alma Juventus Fano che sta vivendo sospesa nel limbo, sta vivendo una situazione soprattutto per i tifosi un po' complicata. Perché? Perché c'è una squadra che è retrocessa dalla C alla Serie D, un presidente che non ha voglia di stare ancora per un anno perché dice ci ho già rimesso parecchi soldi e se non mi danno una mano io non posso stare qui e quindi i tifosi che dicono non sanno di che morte morire. O'Fidani dice ora scendo in campo farò di tutto per dare al Fano la Serie C. Quindi cosa significa? Significa lo ha detto in una nota del presidente alla Lega rispettare le regole e anche il blasone di una società che ha onorato gli impegni. Come dire il Fano si è sempre comportata bene ha sempre pagato tutto e tutti adesso che siamo caduti in disgrazia cioè voglio dire se c'è qualcuno che non può onorare gli impegni e quindi restare in Serie C ricordatevi del Fano questo in sostanza è il pensiero. Il Fano non si arrende per la C è il titolo che lo stesso il Corriere Adriatico usa questa mattina un comunicato della società sottolinea la volontà comunque di lottare quindi di non abbandonare l'idea di essere riammessi nella serie dei professionisti. L'esclusione infatti della casertana ormai è ad un passo ma bisognerà vedere come verrà considerata perché poi è tutta una questione di come abbiamo già visto adesso non sto qui a ricordarlo è una questione formale se di ripescaggio o se si parla di ripescaggio o di altro è tutta una questione formale noi invece con molta tranquillità senza farci molte formalità vi diciamo semplicemente che questa sera c'è il telegiornale alle 20.30 e alle 20.30 c'è il telegiornale che tra poco invece per chi ci segue in diretta come sempre dalla Santa Casa di Loreto c'è la Santa Messa io vi auguro una buona giornata e arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.